Porsche Cayenne GTS 3.6 da 440 CV, immatricolata nel 2015 con 115.000 km. Taglia andata regolarmente in Porsche, monta gomme e stive nuove. Ricca è la sua dotazione di serie, con tetto apribile, sensori di parcheggio anteriore, posteriore e retrocamera. Sedile anteriore e posteriore riscaldabili per il massimo comfort. Hi-Fi Bose, K-Less Entry e portellone elettrico fare all'Oxenon LED. Modalità di guida Sport Plus. Cosa volere di più da una vettura? Inoltre, sospensioni pneumatiche, cerchi da 21 pollici e pinze rosse. È un veicolo di vera eccellenza con 12 mesi di garanzia.